Buongiorno a tutti e benvenuti all'appuntamento con la rassinia stampa sportiva di Udinese Channel. Come ogni mattina diamo uno sguardo alle principali notizie riportate dai giornali nazionali e locali, ma ci soffermiamo ovviamente su quelle riguardanti l'Udinese. Udinese che riprenderà oggi la preparazione in vista della prossima sfida, l'ultima prima delle festività natalizie, quella contro la Sampdoria, una gara delicata perché si viene da una sconfitta in casa che pesa ma che deve soprattutto far riflettere su quelli che sono gli errori da migliorare. Contro una squadra molto tosta, una squadra che è in terzo posto in classifica, che di partita in partita dimostra di avere tanti giocatori di talento, tanti giocatori importanti che insieme danno il risultato. Ma prima di andare a vedere quello che i giornali riportano sull'Udinese, sempre parliamo di calcio, però di calcio dilettanti. La festa dei nostri undici all'interno del Messaggero Veneto ha riportato l'articolo dei premi del Messaggero Veneto per i dilettanti quando il calcio avrà passione. Nella cerimonia in Castello, Tommaso Cerno, direttore del giornale, ha annunciato l'apertura ai tifosi per le nomination. In questa pagina però viene riportato anche un articolo di un premio, il premio Ciliberti, per Alex Meret. Ora c'è Alex Meret in rampa di lancio, i genitori hanno detto che al posto di Scuffet è difficile dire no all'Atletico Madrid. Alex Meret, compagno di esperienza anche con l'Under-19 di Simone Scuffet. I genitori che abbiamo visto qui anche nella foto dell'Udinese, i genitori del porterino dell'Udinese Alex Meret con l'opera di Giorgio Ciliberti hanno detto, soprattutto hanno chiarito, insomma un dubbio che ieri papà e mamma Meret hanno appunto voluto chiarire. Devo essere sincero, io non avrei detto di no, ha spiegato papà a Rigo rispondendo a una domanda appunto riguardo all'offerta che era stata apposta a Simone Scuffet. A simili condizioni offerte sarebbe stato difficile non accettare perché un'occasione così potrebbe anche non ritornare. Poi hanno continuato dicendo, per il momento decidiamo noi in famiglia senza bisogno di mettere di mezzo altre persone. Certo qualcuno si è già fatto sentire per proporre un suo consiglio, forse in futuro cambierò idea. Queste appunto le parole del papà di Alex Meret, un giovane di grande talento, di grande pospetto e insomma queste sono anche le opinioni personali da parte del papà su quella che può essere un'offerta allettante, secondo lui, che era quella appunto offerta a Simone Scuffet per andare a iniziare una nuova esperienza con l'Atletico Madrid. Ma andiamo ora sì a vedere com'è la situazione attuale dell'Udinese, com'è, come si sta preparando e quali sono gli alti e bassi, quali sono le ombre un po' da rivedere di quelle partite che insomma hanno così non reso la continuità di questa squadra. Le quattro ombre sull'altalena udinese, gioco, qualità, tenuta, difensiva e soluzioni d'attacco nel Mirino. Dopo il K.O. con il Verona quindi si vanno ad analizzare tutti questi alti e bassi. La convinzione comunque è tattica di strama che questa squadra è costruita per il 3-5-2 e è stato appunto indetto anche un sondaggio sul sito internet del Messaggero Veneto, lanciato ieri pomeriggio, che permette di scegliere qual è il problema da risolvere per ritrovare una squadra convincente. Ebbene, secondo i risultati parziali, il 51% dei navigatori del web ha deciso di puntare l'indice verso il gioco, una sorta di richiamo nei confronti di stramaccioni. Al secondo posto c'è l'opzione numero 2. La qualità dei giocatori quest'anno non convince, è una fetta dei tifosi, ovvero il 29%, che quindi ritiene non troppo azzeccata la campagna acquisti e vendite dell'udinese dopo anni di fasti e plus valenze. Il 16% invece crede che l'attacco sia troppo totodipendente, mentre soltanto il 4% dei partecipanti al sondaggio pensa che la difesa sia da mettere sul banco degli imputati. Ma c'è tempo anche un altro giorno per votare. Quindi insomma, questo è uno spazio dato dal messaggero Veneto per dire la propria su quelle che possono essere le motivazioni di questa mancanza di continuità dei bianconeri. Ci sono però delle sanzioni. L'accusa del procuratore federale dopo il match giocato contro il Milan, ha deferito Gian Paolo Pozzo per le frasi sullo sciagurato arbitro Valeri. E Valeri per me non può arbitrare, aveva detto il patron Pozzo. In Italia ci sono due o tre arbitri scarsi. Se si eliminano questi arbitri si fa una grande cosa per il calcio. Per questo concetto, domenica 30 novembre, appunto espresso a caldo domenica 30 novembre, dopo le ennesime corbellerie del direttore di gara romano in Mila Udinese, Gian Paolo Pozzo ieri è stato deferito dal procuratore federale per la violazione dell'articolo 1 bis comma 5 e dell'articolo 5 comma 1 del codice di giustizia sportiva. Quelle per patron sono dunque, secondo l'accusa, dichiarazioni lesive nei confronti dell'arbitro e di altri componenti della classe arbitrale. È arrivato anche l'ultimo regalo da Paolo Valeri che quella domenica a San Siro per la seconda volta in carriera si inventò un rigore con espulsione ai danni dell'Udinese. Un regalo che non copre il malcontento di Cleb nei confronti dell'Aia per la qualità di alcuni direttori di gara. L'altra sera il presidente Preziosi si è lasciato andare dopo i torti subiti in Genoa, Roma. Banti è stata una iattura. Mi auguro che non venga più a Genova. Il procuratore federale si farà sentire ovviamente anche per lui. Andiamo in taglio basso a vedere ancora una volta quella che è l'opinione dei tifosi che abbiamo già sentito anche nell'arco delle nostre trasmissioni ma alcuni messaggi vengono riportati anche dal messaggero Veneto. Non c'è identità, troppa confusione. Molti chiedono a Stramaccioni di intervenire, altri invece vogliono rinforzi. Questa è la voce anche da parte dei tifosi che sono sempre presenti nel bene e nel male e che vogliono far sentire anche le loro ragioni. Andiamo a vedere però un'intervista realizzata a Valerio Bertotto, ex capitano bianconero che ha detto servirebbero due giocatori di qualità. L'ex capitano era al Friuli domenica ha visto i soliti difetti dell'Udinese ha un centrocampo con troppi mediani ha detto più piedi buoni ci sono e meglio è. I gol subiti nel recupero tenere la concentrazione al top non è semplice ma ci si può lavorare questi sono particolari che fanno la differenza. Poi un giudizio anche su Thomas Ertot ha detto non ho rivisto l'azione per poter dire se poteva fare di più comunque Toni ha fatto un movimento da grande attaccante. Queste alcune delle dichiarazioni alcuni dei punti sollevati da Valerio Bertotto per analizzare quello che non va in questa squadra e quello che servirebbe appunto per migliorare la situazione bianconera. Intanto una notizia che riguarda anche una contusione che mette in dubbio che potrebbe mettere in dubbio Ghierme per la Sampdoria e non è solo l'assenza certa dello squalificato Allan a complicare quindi i piani di stramaccioni in vista della trasferta di domenica in casa della Sampdoria oggi alla ripresa della preparazione fissata per le 10.30 al Bruseschi il tecnico saprà infatti se potrà avere a disposizione Ghierme alle prese con i postumi della contusione alla gamba sinistra rimediata inizio ripresa con il Verona. Ghierme sarà valutato dai medici al pari di Piris ha fatto sapere ieri il DS Cristiano Giaretta anticipando anche l'altra preoccupazione di uno stramaccioni desideroso di recuperare al più presto il tutto fare Piris fermatosi venerdì a causa di un affaticamento muscolare al flessore. Bianconeri irriconoscibili e mai pericolosi questi invece sono i commenti e le analisi dai vari giornali nazionali che vengono riportati anche dal Messaggero Veneto alcune delle considerazioni della Gazzetta dello Sport che aveva scritto la classifica resta buona ma la qualità del gioco sembra un optional in uno stadio che non vede la vittoria da quasi due mesi e poi Corriere dello Sport che ha parlato di Fernandez che merita i gradi del trequartista o è meglio preferito di Terò Ghierme bocciato come play ma quali sono le alternative insomma tanti punti di domanda sollevati dal Corriere dello Sport invece in taglio alto vengono ricordati altri appuntamenti perché oggi Conte incontrerà gli allenatori di Serie A ci sarà anche Andrea Stramaccioni all'incontro fissato per le dieci di oggi nella seda della Lega tra il CT Antonio Conte e i tecnici appunto di A scopo dell'incontro è quello di una collaborazione per aumentare la competitività del calcio italiano presenti pure il presidente Tavecchio e il presidente Beretta si parla anche di mercato con Valencia e Barsa c'è l'Udinese su Vegas secondo il giornale cileno appunto c'è anche l'Udinese sul nuovo gioiellino del calcio andino il difensore centrale dell'Audax italiano l'inibizione invece prima abbiamo letto quella riguardante la sanzione riguardante il patron Pozzo ma c'è inibizione anche per Ferrero presidente della Sampdoria tre mesi per le frasi su Toir è stato quindi inibito per tre mesi dal tribunale federale nazionale della FIGC molta di 10.000 euro a Ferrero è punita anche la Sampdoria con un'ammenda di 35.000 euro in taglio basso invece vengono esaminati i posticipi di questa quindicesima giornata di Serie A in un campionato come sappiamo che è sempre più spezzatino l'Inter di Mancini ce la fa al quarto giro col Chievo si gode finalmente una vittoria pari invece Scialbo tra Empoli e Toro questi appunto i due posticipi di questa quindicesima giornata di Serie A e dal messaggero Veneto ci spostiamo ora a vedere i principali titoli del gazzettino quest'oggi in edicola anche qui andiamo a vedere quello che raccontano su anche le polemiche e le critiche dopo la sconfitta appunto lo vediamo qui già riportato il titoletto in prima pagina polemiche e critiche dopo la sconfitta andiamo quindi all'interno della pagina sportiva alti e bassi ma la media risultante è sconfortante questa è la situazione analizzata dal gazzettino la squadra appare in confusione tattica e tecnica incapace di dare continuità alle qualità positive messe in campo le criticità non è stata ancora trovata una formazione tipo e un gioco accettabile secondo quanto riporta il gazzettino in taglio basso invece box dedicato agli infortunati poi il caso di Muriel che è ancora colpito purtroppo dalla sfortuna per quanto riguarda però appunto come dicevamo gli infortuni Ghierme Pires oggi nuovi controlli potrebbe recuperare per domenica e per quanto riguarda Luis Muriel purtroppo è nuovamente fermo per il riacutizzarsi del problema a flessore destro che era insorto il 15 novembre scorso in occasione dell'amichevole di Belgrado con la Stella Rossa il giocatore che dieci giorni fa sembrava guarito ma che a scopo prudenziale era tornato ad allenarsi solamente cinque giorni fa nel corso della partitina in famiglia accusato ancora dolore al flessore il malanno non sembra grave ma è evidente che a questo punto i tempi del suo completo recupero slittano ulteriormente Muriel potrebbe anche rimanere out per un altro mese la sfortuna che sta bersagliando il bomber colombiano necessariamente diventa un guaio serio per stramaccioni che è proprio in attacco agli uomini contati di Natale e teroce anche Geico ma l'iberico a gennaio dovrebbe essere ceduto non è da escludere a questo punto che venga responsabilizzato il 19enne colombiano Alexis Zapata che ha già fatto il suo debut in prima squadra e queste appunto sono le considerazioni riportate dal gazzettino che ci parlano appunto di un momento veramente sfortunato per Luis Muriel sotto il profilo degli infortuni che non permette quindi al colombiano di poter effettivamente dare il suo contributo al 100% e di dimostrare quello che è il suo reale talento le sue qualità chiudiamo il gazzettino e andiamo a vedere ora la prima pagina della Gazzetta dello Sport per poi inoltrarci anche nelle principali notizie perché si dà subito spazio agli ultimi due posticipi qui Inter ci cova questo il titolo riguardante la prima vittoria di Mancini in campionato sulla panchina dell'Inter il croato segna e sale in cattedra Verone invece in gol anche Ranocchia Chievo al tappeto battuto per 2 a 0 serve però il solito Super Andanovic in taglio alto si dà spazio anche al sorteggio degli ottavi di Champions ieri a Nihon le urne appunto hanno decretato quelli che sono gli accoppiamenti per gli ottavi di Champions ma anche per l'Europa League Juve occhio il Borussia in Europa non è immobile Allegri vuole Perotti si parla però ampiamente anche di Roma 2024 delle Olimpiadi perché Renzi lancia l'Olimpiade Salva Italia e sfida i no ufficializzata quindi la nostra candidatura Malagò ha detto trasparenza religiosa oltre la capitale coinvolte per ora anche Firenze Napoli e la Sardegna poi altri titoli appunto come dicevamo sull'Europa League la Roma pesca il Feyenoord e c'è il Tottenham invece per la Fiorentina il Toro tocca l'Atletic Bilbao il Napoli con il Trabzonspor il rompipallone di Gianegnocchi prima di andare a vedere anche tutta la classifica di questo campionato della Serie A aggiornata Cassano saluta Parma la moglie ha già disdetto l'asilo dove portava i figli e Antonio ed eccola qui quindi la classifica aggiornata Torino Prudente Pari invece a Empoli vediamo come sempre la Juventus in vetta 36 punti seguita dalla Roma 35 poi in terza posizione sono Lazio Sampdoria e Genoa con 26 punti 24 punti invece per Milene Napoli Fiorentina 23 Udinese Palermo 21 Inter 20 Sassuolo 19 Verona 17 Empoli 16 Torino Atalanta 14 Chievo 13 Cagliari 12 Cesena 8 Chiude la classifica il Parma a 6 punti con un punto di penalizzazione Andiamo quindi all'interno prima per analizzare bene quelle che sono le pagine dedicate alle Olimpiadi Olimpiadi 2024 in primo piano Renzi lancia Roma aiutare lo sport ad aiutare l'Italia Ufficializzata ieri quindi la candidatura all'Olimpiadi 2024 il Premier ha pronto lo slogan e Malagò ha dichiarato trasparenza religiosa ok Firenze Napoli e Sardegna dubbi invece sulle altre qui vediamo appunto nella fotografia il presidente del CONI Giovanni Malagò il presidente del Consiglio Matteo Renzi e il sottosegretario Graziano Del Rio hanno detto ovviamente su questa candidatura sulla possibilità appunto di avere di essere protagonista in Italia con le Olimpiadi nel 2024 si è espressa Giuseppe Aydem olimpionica ex ministra ha detto questo evento potrà ossigenare il nostro paese ha parlato anche Clemente Russo lamentarsi della crisi non serve bisogna investire e pro a questa iniziativa anche Flavia Pennetta come atleta non potrò esserci ma in altro ruolo sì quindi c'è grande sostegno anche da quelli che sono i grandi del mondo dello sport ma ha parlato anche Thomas Bach presidente del CIO e ha detto l'Italia è una grande nazione olimpica Roma è forte ha solide basi infrastrutture sostenibili e flessibili per vincere memorabile l'edizione del 1960 c'è chi è pro appunto ad ospitalare le Olimpiadi c'è chi invece non è d'accordo perché appunto nasce il partito del no con Salvini che dice è una follia Grillo mostra cinque manette sui social esplode la protesta e la maggioranza contraria è schiacciante Civati del PD ha detto uno spreco le priorità sono ben altre il sondaggio 64% appunto del sondaggio su Gazzetta.it è contrario alla candidatura italiana per l'Olimpiade 2024 quindi la maggioranza diciamo della percentuale più della metà della percentuale dell'Italia insomma di chi ha fatto questo sondaggio di chi ha votato su questo sondaggio su Gazzetta.it e non è d'accordo sulla candidatura italiana per Olimpiade 2024 andiamo avanti però ora a vedere invece la situazione che riguarda il calcio perché torniamo a parlare dei posticipi della quindicesima giornata primi segnali di vera inter apre Kovacic il Chievo cede ottima prova dei nerazzurri Mancini si sblocca anche in campionato Ranocchia fa 2 a 0 Veneti invece c'è sempre più vivi espulso botta il personaggio analizzato dalla Gazzetta dello Sport aspirante genio Matteo Kovacic aspirante genio a ripetizione dal mancio gli devo molto il croato finalmente leader dice vittoria cattiva ora sto imparando a muovermi andiamo ancora una volta a vedere quelle che sono le pagine dedicate all'area tecnica anche dell'Inter all'area tecnica del Chievo svolta Mancini ora stiamo alti poveretto Medel quanto corre poi invece per quanto riguarda il Chievo Marana appunto andiamo a vedere il box riguardante l'allenatore del Chievo stop alla corsa ma è la strada per la salvezza viene riportata qui la squalifica invece di tre mesi per Ferrero stangato appunto il presidente della Sampdoria inibito per tre mesi dal Tribunale Nazionale FIGC per le dichiarazioni lesive nei confronti del presidente dell'Inter Eric Toir del 26 ottobre a Stadio Sprint appunto in cui ha detto caccia Toir quel filippino la partita era GX analizzata sempre quella dell'Inter Palacio sa creare buchi Nagatomo è una freccia l'Inter la vince pure così l'argentino costruisce da solo quattro occasioni da rete Medel da equilibrio sette palloni recuperati e tre intercettazioni qui viene proprio analizzata anche nell'illustrazione in taglio alto la partita era GX da parte del Chievo e da parte dell'Inter 85 palloni giocati da Kuzmanovic questa è la chiave di lettura del match dell'Inter andiamo ancora però a vedere quelli che sono stati i sorteggi di Champions League Juve col Dortmund il crocevia dei sogni ma la crisi di Klopp in Champions non c'è il terzo ultimo in Bundesliga e solido invece in Europa il Borussia resta un osso duro e per i bianconeri incontrarlo vuol dire finale andiamo a vedere ancora però le altre sfide perché il Paris Saint Germain sfiderà il Chelsea Moe per un altro sgambetto a Blanc francesi e inglesi si sono già scontrati un anno fa proprio come Barcellona City Bayern e Real Madrid in carrozza qui vediamo invece una statistica sul ranking UEFA assoluto quello stagionale poi la classifica per nazione negli ottavi di Champions e vediamo come l'Italia si accorta dietro le big il derby di Ciro invece personaggio si parla di immobile il derby di Ciro a fare Juve cuore toro passiamo noi i bianconeri hanno incassato 10 milioni ma non c'è mai stato feeling e lui dice il Borussia avanti al 51% passiamo passiamo ad un'altra pagina e vediamo come l'Inter sia impegnato in campionato ma anche in Europa League e qui si va a parlare dei sorteggi dei sedicesimi di finale per quanto riguarda l'Europa League Inter ti ricordi il 1967 ma è sottovalutare il Celtic ma Zola racconta la finale di Coppa campioni pensavamo di travolgerli invece vinsero loro e oggi dominano il torneo scozzese qui vediamo tutti gli accoppiamenti anche e le date che vedranno protagonisti il Torino e l'Inter e poi la Fiorentina e il Napoli questi appunto gli accoppiamenti che riguardano invece l'Europa League Roma ha vietato distrarsi il Baby Feiernord qui vediamo il titolo cresce tante cessioni in estate stelline in campo e veterani in panchina per Strootman sbocciato nello Sparta Rotterdam c'è area di derby questa è appunto l'analisi anche delle squadre italiane impegnate in Europa League lasciamo la gazzetta ora guardiamo le prime pagine del Corriere dello Sport che parla subito in prima pagina della Juve e della Roma Juve su Zazza Roma invece su Gila sprint Scudetto ora però è mercato Allegri vuole riprendersi l'attaccante del Sassuolo e Garzia pensa al centroavanti del Wang Tzu intanto arriva oggi la stangata per la rissa nel tunnel dopo la gara con il Genoa taglio alto Tukovac Ceranocchi a gol l'Inter di Mancini riparte e poi di spalla i giochi del 2024 Renzi in campo Olimpiadi eccoci andiamo a vedere gli altri titoli sempre dalla prima pagina del Corriere dello Sport che riporta in prima pagina appunto i sorteggi delle Coppe Europee Tevez che sfida con Immobile Champions la Juve trova il Dortmund c'è City Barsa lasciamo il Corriere dello Sport chiudiamo con la prima pagina del tutto sport per poi dare di nuovo la linea ai colleghi della cronaca per approfondire proprio altre notizie meglio Ciro che CR7 in Champions League e Bianconeri trovano il Borussia di Immobile Buffon ha detto i tedeschi ci diranno chi siamo mercato Zaza a gennaio questo appunto un nome che potrebbe interessare taglio alto invece Toro pari in trincea Coppa c'è l'Atletic sofferto 0-0 a Empoli in Europa sfida terribile ma di gran fascino spazio anche i giochi 2024 vincere in trasparenza questo è lo slogan di Malagò nei box invece in taglio basso il Chievo combatte Makovacic e Ranocchia sono letali e poi si parla anche della riscossa Champions che riapre i sogni di mercato per il Milan e siamo proprio in chiusura di questa rassegna stampa dedicata alle notizie sportive ora invece ci saranno nuovi approfondimenti sulle notizie di Cronaca grazie a tutti e buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti